Sì, fa piacere che la comunità di Tortoreto si è avvicinata tanto rispetto agli scorsi anni. È una cosa fondamentale perché Tortoreto è abituata ad altri tornei, la promozione, quello che è stato fatto per anni. Ripartire la terza teoria con questo entusiasmo è una cosa fondamentale che spero possa portare negli anni, perché è difficile vincere, è difficile risalire subito, però la speranza è quella di riportare Tortoreto almeno in un campionato, diciamo, tra virgolette, degno. Sì, fa piacere che la comunità di Tortoreto si è avvicinata tanto rispetto agli scorsi anni. è una cosa fondamentale perché Tortoreto è abituata ad altri tornei, diciamo, tra la promozione, quello che è stato fatto per anni. Ripartire la terza teoria con questo entusiasmo è una cosa fondamentale che spero possa portare negli anni, perché è difficile vincere, è difficile risalire subito, però la speranza è quella di riportare Tortoreto almeno in un campionato, diciamo, tra virgolette, degno.